Si intervistano i turisti con il trolley in centro, si controllano i portali internet che offrono posti letto e locazioni per i turisti, continuano i controlli sulle strutture extraalberghiere della città e numerose sono le violazioni. Su 71 strutture controllate, delle quali 58 locazioni turistiche, sono emerse 10 strutture abusive e 3 che facevano pubblicità ingannevole per un totale di 16 sanzioni amministrative per irregolarità di vario genere. Tre persone sono state oggetto di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per irregolarità nella dichiarazione dei redditi. Mettendo poi insieme i dati dell'anagrafe comunale con il numero di stanze e posti letto, gli agenti infine hanno chiesto la cancellazione di 7 persone che risultavano residenti in appartamenti utilizzati invece per ospitare i turisti. Il fattore forse più clamoroso riguarda il pagamento della Tari che è quasi un optional nel 50% dei casi o omesso completamente piuttosto che pagato in maniera difforme. Poi c'è il problema dei posti letto che spesso sono superiori a quelli che vengono denunciati. Alcuni casi sono abbastanza clamorosi, a pochi metri da questo palazzo abbiamo trovato 18 posti letto quando nella denuncia e la segnalazione certificata erano solamente 6. Ma dal 7 luglio scattano le novità per le strutture extra alberghiere. Le locazioni turistiche verranno finalmente sanzionate, quelle abusive, quelle che omettono anche le comunicazioni piuttosto che attestano sui portali internet informazioni che poi non sono quelle reali, basti pensare al numero di camere piuttosto che ai servizi. Va ricordato che le locazioni turistiche non possono offrire alcun servizio, dalla colazione al garage o altre di queste attività. È una novità importante che indica un percorso di equità rispetto alle strutture alberghiere e per le quali ci stiamo impegnando nel contrasto ad esempio dell'evasione fiscale sia di imposta nazionale e assieme al settore tributi anche dell'imposta di soggiorno.